Indagati dalla Procura di Catania per responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Nell'inchiesta sulla morte di Concetta Terranova, donna di 52 anni di Pozzallo, deceduta lo scorso 20 ottobre al Garibaldi di Catania dopo tre mesi e mezzo di calvario in due ospedali, sono coinvolti cinque medici, due dottoresse della lungodeggenza dell'ospedale Busacca di Scicli e tre medici dell'ospedale Maggiore di Modica. A causa di forti dolori addominali e la presenza di tracce di sangue nelle urine, la donna era stata ricoverata, ma una settimana dopo era stata dimessa. Poi l'ennesimo malessere, il nuovo ricovero a Modica e la necessità del trasferimento all'ospedale di Scicli, da dove veniva periodicamente trasportata al nosocomio di Modica per sottoporsi a delle visite specifiche e diverse trasfusioni. Solo ottobre i familiari, non vedendo alcun miglioramento, hanno deciso di trasferire la 52enne al Garibaldi di Catania, ma dopo quattro giorni di degenza il decesso della donna senza alcuna comunicazione sulle cause della morte da parte degli operatori sanitari. Stamattina l'autopsia sulla salma della vittima per accertare le cause che hanno portato alla morte della donna. Per i medici finiti sotto inchiesta si tratta di un otto dovuto.